un gesto porno spagiolato tranquino strappa una risata a marra pace è fatta io non so se posso spoilerare forse no però un piccolo spoiler lo facciamo visto che siamo noi tre tanto siamo in pochi intimi il sabato si si se posso droppiamo martedì registreremo noi tre un video con franchino e ci sarà anche il confronto ovviamente sarà più all'acqua le rose perché famoso video è un ramoscello d'olivo da entrambe le parti me la proposto tarallucci e panini io ribadirò delle cose ovviamente che non il fatto di fare un video non cambia verrà il mio pensiero sulla vicenda però come ho sempre detto i video sono fighi a me non mi è mai stato sul cazzo quindi perché dobbiamo fare guerra inutili poi uno rimane della della sua idea insomma della propria idea e questo qua ovviamente non darà a franchino il bollino di intoccabilità come molti pensano però basta troppe info secondo me sarà un video figo comunque ah storia di pre levamose sto dente vediamo che cazzo perché mo mi stanno a rompe i coglioni da un po' mo che ha fatto sto di pre poi manco manco so qual è il profilo suo ciao ciao ciao